Buongiorno a tutti amici, siamo qui con Tommaso con la sua Mercedes GLA e gli diamo a Tommaso. Tommaso, come mai ti sei rivolto da noi? Mi sono rivolto a voi principalmente perché ne parlano tutti bene e poi la competenza si vede al tatto delle persone che io ho a che fare. Tramite il mestiere che io faccio, che ho un'impresa e che sono sempre a contatto con le persone e quindi mi è bastato una stretta di mano per dire che tipo di persona avevo avuto. Allora Tommaso, per questa Mercedes appena uscita al concessionario, come vedete è una bellissima macchina, ma andiamo a accendere questa macchina di sera, è tutta spenta, buia. Cosa facciamo noi? Andiamo a installare un kit ambient, andiamo ad attivare sul monito originale il software della gestione e in più anche la gestione vocale. Quindi Tommaso, grazie, rimanete collegati, adesso ci mettiamo in moto e facciamo questa lavorazione.